Salve a tutti, sono Casio90, con me c'è ovviamente Alex Chaios, siamo qui, pazzazzo, siamo qui ovviamente che devo mettermi talenti, però stiamo un pochino scagando fuori perché siamo già morti due volte, siamo incazzati, siamo violenti, Io oltretutto non ho praticamente armi nuove, cioè armi utilizzabili, aspetta che me le cambio, non so come si fa, io mi sono cagato le mutande, inventario, mi sono cagato le mutande, non ho più pannolini puliti, ne vuoi un paio, questo ce ne ha di munizioni, 4 su 60? Eh, buono, non lo sapevo, Questo qui, questo qui tipo, eh il cappellino Obey, mica no, se sì che sei trans, oddio, vieni qui, ora è buono, non sapevo di avere... Ti faccio saltare i denti invece, come la metti? La bagasse, signora, so se che sto picchiando il suo figlio, ma guarda di educarlo in una maniera un po' migliore, Hai trovato madre e figlio? Eh, c'era tipo la madre, dietro, che appena ho toccato i due figli, si è incazzata male Eh vabbè, ci credo, zia, la madre, scusami Non mi frega niente Eh, platforming, vero? Sì, questo gioco fa schifo il platforming, perché te lo fanno fare? Ma è inesistente Perché ci hai fatto tornare qua? Io intanto mi foto, anche questa, me la foto, me la foto Ok, quelli sono chiusi fuori Ah, ok, sì, grazie a Dio, ti ho mandato a aiutarmi, non ce l'avrei fatta E tu sei davvero qui, tutto all'aperto Tipo che... Ah, completata, era solo da completare Ma porca di una... Dio, c'è una scassina trozza Scassina tower Torna da Howard, poni fine alle sofferenze della moglie A sangue freddo, entità Empire Ripuiscerà di fronte alla stazione di Pompaggio Città di Moresby Eh, Pompaggio Sono tutte città di Moresby, quindi è qua Perché non tu puoi fare? Sì, c'è una scassa L'apro, spostati Piccone terrificante Ma il piccone è per chi è, secondo te? Per te Per me? Penso sia... Penso sia per te, sì, due mani, un piccone Gatto sul tetto, aiuta l'uomo Ok, 300 metri Vabbè, prendiamoci sto piccone Vai zio, 300 metri Turututututurutu Solo 300 metri? Sì Ma sì, amico Vedrai che arriveremo in un attimo, porca puttana Milla Guarda, zio Bam Guarda La tua faccia Minca, tipo che te la devono raccogliere col mestolino Diglielo, zio Diglielo Diglielo Ma nessuno ancora ha capito com'è che voi salite di livello, vè? Minca, questo qua c'è un casco e l'ho spaccato C'è il tipo pazzo C'è il tipo pazzarello Questo era No, c'è il tipo pazzarello quello grosso Che dice? Andiamo a correre per aiutare l'uomo Scusi, scusi Oddio Scusi, dove si va per il manicomio? Scusi, per il manicomio? Porca puttana il dolore Mi ha colpito male Ce la con te Eh, no, ce la con te Allora, approfittane Ce l'ha una motolov? Sì, a spade Eh, lanciagliela, tipo, dargli fuoco male Tieni! Piccolo uomo Ok 5, 55, 4, 47, 48, 48, 48 225 Cosa ti va, 140 103, 130 130 Sento te, una fa più di 140 150 sta facendo Mi dice così A me dice 130 E ancora a tutta la vita Per me Mica ma è normale Cioè, quello dovrebbe essere un umano infettato Cioè, cos'è? Tipo Schwarzenegger lo sto sparando piano piano con la pistolina è morto ma io non ci credo la madonna santa che cazzo mi tocca vedere faccio saltare le meningi andiamo un po' in salto aia mi ha colpito in pieno uccidilo è per me se trovi energia per favore chiama il 118 guarda quanto cazzo sono anche io siamo in due senza energia questo è incazzato nero perchè non ha trovato i biglietti per andare ad ascoltare i Dari ma esistono ancora? non lo so spero di no Dari come stai? no come cazzo era? vale come stai? vale questo pome cosa fai? vieni come ovale te ne vai un pompino mi fai se vale ciao se vale poi non vale te ne vai un po' cagare questa non era no pensavo fosse una bevanda era solo una frutta bevanda energetica questa si che non è bevanda pom di scure oh un'altra merendina extra dai ma come cazzo hai fatto a colpirmi ma star ma fa cagare il cazzo fa cagare il cazzo fa cagare il cazzo fa cagare il cazzo o forse siete voi che siete un po' troppo forti eh forse secondo me è quello che livello? scusami livello 70 ok mi chiamo molto perché non mi fa fare il coso signora 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 ok scusami gara no suo figlio non ha più la testa zio c'è un suicida che mi si sta avvicinando male minchia aspetta aspetta ci penso io avevo il pam pam quanto toglie di più al suicida che agli zombie normali sta merda oh spendi ma non è che se uno sale di livello poi automaticamente diventa forte vieni qua zio dove stai andando vabbè il pappagallo perchè stai passando dobbiamo andare lì ah hai cambiato missione minchia zio avvisa no ho cambiato missione sempre gatto sul tetto gatto sul tetto eh dimmi zio cambia missione se no io me lo traccio vieni qua è un cazzo di traccione ah prurito mentre che ti aspetto migrato ok andiamo scusa questi qui hanno detto che vogliono provare la mia carta inglese nel culo ah ma perchè col piccolo del brame vai a terra tu ma cos'è una schiava del 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 miliotto c'è che cazzo guarda esatto abbiamo un po' di tutto boh vabbè ci sono i tirannosauri sto gioco ho sentito brrrr e anche da avanti eh eh perchè non cadi mi devo assolutamente ricordare ti taglio le gambe vedi che cadi ho visto l'attacco che gli ho fatto ho fatto un backflip questa tizia comunque no perchè gli ho fatto tipo un attacco stile a fondo no commenta adesso ma bacchia ma bacchia dove stiamo andando qua oh eccola eccola l'ho fatto l'ho fatto di nuovo vediamo se lo provo su un altro zombie vediamo se funge adesso hai bisogno di vita quanta vita sono full la vita insieme a te a me che bellino zio dietro le spalle lo so stanno prendendo fuoco non li cago e lo so ma ci stanno cagando a me me ne vado via boh non mi ricordo di che è questa canzone dobbiamo salire qua ci dice a volta si che c'erano la domanda per voi scrivetemi nei commenti di chi è questa canzone che ho appena cantato il primo che lo scriverà vincerà il pappagallo vai dove non lo posso dire ah possiamo o riscendere o riscendere stessandosi io ci metto a 70 anni aspetta ok da quando posso dire che quando sono salito ragione che cecchino mi fa vedere che metti la mano avanti e diventi blu ok io scè no non posso scendere a vedere io c'è un assassino una molotov sull'assassino adesso che ne dici spero che non colpisca le grate di sta roba se no mi incazzo noi siamo molto fottuto buono ce l'ho fatta ok non so come aspetta un attimo guarda zio un barbecue un barbecue guarda non mi riscaldo ah aia 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 porca puttana la schifosa bagasse no minca zio ne stanno arrivando troppi fuggi scappa 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 dai ce la puoi fare non ho più stamina piano piano boh l'ho atterrato vieni vieni scappa scappa come sei morto e cammini attirati tutti che cazzo scappi creare nini sono morto il terreno di agri tutti scusa mi sto morendo anche nella vita reale boh guarda ma porca puttana ma sono acqua sono il suo punto di uccidere che scappi erano troppe grado tutti stile stile dalle azioni erano arrivati erano basta eh vabbè mandando avanti ne incontri sempre di più e ci riportiamo dietro non fa niente eh 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 ti è cambiato e non c'è più la scura in modo tarmi di merda tieni guardalo zieti non dobbiamo andare di qua mi spiace ma porca bagassa ok no io ti spezzo le dita dei piedi dei piedi no e guarda non ti muori no no ancora ma non ne ho fa il ct7 qua sotto io non ho quasi più armi ormai esaminiamo qua potermi ti porti a presso boh no allora dobbiamo dove cazzo dobbiamo andare è qua qua sinistra che dobbiamo scendere però questi qui si permette di scopo vai a terra pom ok ok ho un calmezza se hai bisogno di vita qua è pieno no qua ah qua dobbiamo grazie aspetta fermo fermo grazie a te che sei fermo che da terra buono mi ha fatto anche il boomerang ok ne manca che cazzo oddio questo qua è sotto la macchina tieni perdonami se non mi fa pena eh ma lo dobbiamo aiutare ah ok ah era sotto da ripararsi ma dove cazzo sta andando ora come si chiama oblivion obj 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 tiè però chiudila alla porta perché sai che è un po' un problema ma se tu hai ok mille piè salvatore salvatore chi è? pedda salvatore pilloni pfff salvatore zetta abbiamo finito così questa ok ma scusa la denaro mille grazie a sangue freddo mi dici alex metti questa e io va bene caso cioè a sangue freddo a sangue freddo sia i pugni nelle mani metri vai vai che ce la facciamo a fuoco la facciamo a fuoco vai vai a fuoco non ci mettiamo niente morti sette volte vai corri ok un po' di schivaggio mi stai mai lasciare le cose a metà questa quale puttana le gambe le gambe te le piego anche a mille dollari aveva stati hit hit was a bitch anche i ricchi muoiono hit was a bitch oh hit forse perchè è uno zombie non so cos'è meglio usare per uno zombie hit o she nel caso perchè era una ragazza hit hit perchè è come se fosse un animale effettivamente bam mamma che è scoppiato in faccia sono sempre in modo a fuoco ok possiamo andare nessuno ci fermo madonna c'è il pappagallo che è gigantesco il pappagallo eretto ho perso muori lo devo tenere a due mani lo devo ottenere aspetta wait dio c'è un suisse un suisse buono che cazzo è esploso ho spaventato male lui è esploso ma sta mazza non serve più a niente non li butta neanche più a terra bing dove è il pappagallo ma lo sono di nuovo dimenticato c'è un kit medico ho trovato buono qua c'è lo straccio ah zio c'è potete riparare qua aspetta un attimo mi serve tantissimo mi serve ok ho tipo tutto distrutto si i rumori di merda no 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 un altro giorno domani eh che ne dici oh ce l'ho fatta aspetta un attimo che ti stavo parando lo culo ok devo ripagare il pappagallo perché è tutto graffiato poverino boomerang a livello non mi ricordo a che livello so lup aia testina vai giù testina pom 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 livello 25 minca mia tu pom il coltello d'immersione è mio ok si salta ci si diverte ci si diverte è vero con un occhio inglese in bocca sping dovevo farlo più alto possibile quello sping vedi che quando poi ti prenderei quello a due piedi ti divertirei ancora di più vero vero mi cazzo pezzo lo sto vedendo troppo a volte non farla esplodere adesso ok ero già pronto ahia dietro io c'ho la vecchietta davanti aspetta è molto è molto incazzato boh questo è morto che è che è eh tiè bitch non è andata dobbiamo scendere da qua possibilmente ma quanta gente che balle tiè boomerang tiè boomerang che cazzo fanno ad essere così resistenti le vecchiette mi ha quasi ucciso sta troia dovrebbero avere l'artrosi e tutto quanto e invece ma non la senti se sei non morto zio eh sarà quello quanti sono che è non mi ha fatto boomerang stavolta eh no ho mancato c'è un swiss eh no scappa sto esplodendo ahahah grazie swissider complimenti straccio come al solito vabbè andiamo avanti mmm bevanda no ma serviva anche una a me però però ne serviva neanche a me è volvere incannevole e l'ho aperto io più nel senso che sembra un revolver in realtà una pistola esatto ti fa e non lo è invece che riderezza eh sì questa è questa cosa volete vedere Alex che la prende? anzi che lei prende non mi ha colpito mi ha colpito un altro zombie non lui coltello d'immersione via cogliano ho ripreso il coltello d'immersione dalle sue carni tiè? vabbè vado di Harlem Shake aspetta un po' sperando di riuscire non ho capito ancora bene come funziona sinceramente sei tutto blu zio ok buono eri bluissimo ok e poi ho due ganci vabbè buono andiamo avanti eeeh so voi vi levate dal cazzo ma il boomerang non funziona manco per il cribio però funziona una volta sia una volta ma scusa ce l'hai maxato? sì chi è? è alla faccia del cazzo però non c'è tipo la percentuale al massimo capito? sino a un certo punto puoi puoi rubere il boomerang se no tipo mi aggiungi una casa abbandonata andiamo e no tipo? eeeh non puoi farlo al massimo il boomerang capito? tipo mi sa il 50% di probabilità che ritorni non me lo ricordo è buono comunque è buono ma è una rotola di cazzo perché io sono sfigato e mi becco sempre che cazzo stavo già morendo tipo aspetta te lo dico subito quanto è boomerang maxato è il 50% di probabilità che mi ritorni l'argo c'è una bevandina qua grande ah ci sono gli stronzi ah no che sono i stronzi 30 metri minca mia tu imparate il sardo insieme a noi esatto noi lo sappiamo già voi dovete impararlo noi lo sappiamo già ovviamente ole double kill qua c'è qualcuno che si sta eccitando particolarmente lo senti io attenzione al primo colpo eh 3 2 1 pom no 3 2 1 al secondo pooh guasta festa non aprire morti dentro occhio c'era scritto che c'erano morti dentro ma nel senso che sono morti dentro sono tipo ammo sono 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 tristi ah c'è solo una tizia ah questa penso sia la moglie eh dai 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 vai via che brutta che sei ma va a cagare ha urlato tanto quella doveva essere un tenore da normale moglie di mugambe moglie di mugambe ciao no me l'hai rubata lascia me la uccidere a me volevo personalmente salutare la moglie di mugambe di mugambe ok ci guardiamo un attimo qui intorno esamina ovviamente la prima cosa che faccio è che è nel cestino certo ovviamente il piano di merendina attiviamo l'acqua che è uno spreco attivare l'acqua attivare l'acqua è uno spreco zio che te frega dai che cos'è la chiamo casa che bello proprio ora penso che ma cosa c'è? una befanda energetica se ne hai bisogno però cerchiamo a volte che non ci sia qualche progetto tipo robe varie di quella arma project zero no mi pare di no è già finita casetta no qua c'è una parte pom ah quella l'avevo veduta pom e basta vai anche perchè la mappa in questa in questa cosa è inutile quello lo coricoia qua dentro c'è qualcuno? frutta merendina frutta champagne che sarebbe da portare alla tizia nell'altra mappa champagne esatto quella tizia uh champagne merendina per chi piace alcol mozzato la faccia alcol lo darate che ci servono per le bombe brutta è anche un po' per te zia se lo usassi ogni tanto coltello da lavoro io profumo di rosa ogni volta e di violette di violetta una ragazza che abita qua ti stavo per chiamare viola coltello da lavoro mi serve vieni qua questo questo cosa ti trova lo zio è solo veloce spreca pochissima energia perfetto buono comunque gentaglia io direi che il video finisce anche qua spero che vi sia piaciuto stiamo per finire tutte le missioni secondarie e quindi a breve passeremo al prossimo capitolo teo senti vieni qua senti concedimi questo ball sei bruttissimo da vedere madonna vai ti faccio luce vai balla no sei spenta mente vai e con questa bellissima danza vi lascio saluta come uno speaker radio dai e dopo questa bellissima canzone vi lascio no zio aspetta però tipo soft come romantico ah ok vai aspetta reattivo come stavi facendo prima con uno speaker vai e dopo questa bellissima canzone che ricorda tanto l'amore le rose e la passione ci vediamo presto qua su una nuova puntata di The Dylant mi state chiedendo scritto come ma ovviamente The Dylant buonanotte